dipende dall'aria io sono pronto per cui 1 2 3 vai tira ok vai corri 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 bravissimo sistemati pure oppa che qua vodo mi si stai manchi a destra ok non si stai manchi a destra Sì, 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 sì Sì c'è eh? Sì Quindi sto girando al freno a dentro, giro a destra, a sinistra... Sono caro armato Il principio iniziale della viata è che sono caro armato, poi ci innesca il regolamento che... Vediamo l'occhio che non ci si è toglido ancora a destra Non senti che suona? Non c'è un sabrito via l'interno Qua suona abbastanza leggermente e ci ripartiamo E' così È un asciutto da un'impecie Quanto più inizialmente È un asciutto C'è un asciutto È un asciutto È un asciutto Sì, tu adesso sei la stessa quota di prima Sì, ho provato il fondo Qua ti sali un signo male qua Sì, è tutto volo per dañar Questa sera ne stai con quecchino Sì, vantai qua tranquillo Sì, vantai qua Sì, vantai qua Sì, vantai qua Sì, vantai qua Mi andiamo ad atterrare perché è un giro di 15 minuti Sì, vantai qua 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 Ve lo prometto Sì, vantai qua Sì, vantai qua Sì, vantai qua Tocchati novi Noi, non ci fari per tutto l'escalino Sì, l'auto è finito, andiamo avanti e indietro perché non abbiamo spazio, perché non abbiamo spazio, perché non abbiamo spazio, perché non abbiamo spazio, perché non abbiamo spazio. Sì, c'è il fatto. Sì, qua c'è l'esercizio, diciamo che c'è l'esercizio E io da tutti partiamo dentro, non ci proviamo Ti avevi fatto un giro? No, abbiamo fatto un giro E' in cima di qui che parlavi Cosa? E' in cima di qui E' in cima di di abbiamo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Scusa. Si. Se fa sempre per tempo, in quattro mesi, in fine settimana, arrivi al bravetto. Sono le giornate più buone. 3-3 voli, sono 30 voli che devi fare. Più 4-5 giornate in campetto. 4-3. Ognuno ancora. E che in realtà non cominciamo a fare 10 settimane. Anche 1-1 settimana. Poi troppo bello. Tipo oggi che abbiamo fatto il volo e avremmo fatto il volo. Questo è il volo. Oh, è troppo brutto. Peringasmo il proprio pane. E' anche il porto di lato più giocato E' un telegramma unico che viene Dopo le aeree, dopo le vacanze di Natale, l'acqua, le soluzioni Vedi che sto in un altro momento al campo E' una cosa che deve essere scoposta qua E posso, in qualunque momento, ciò abbia la cosa giusta decidere Se dovessi esserci, qualunque tipo di problema, che arriviamo troppo veloci, ti dico qui e ieri Facciamo una scivolata cosa deve questa anno No, hai problemi di caviglie, minischi, dinocchia, mai rotto? Mai rotto Ok A priori Dovevamo rientrare A priori, un po' sulliamo da vederti Ok Ok Dovamo rientrare Ok 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 Venito ben in piedi. Tutto bene avanti. Ok, adesso do la velocità e poi lo prenderò tutto. Fanno di velocità. Andrò per correre. Opa, scappiamo avanti alla vela. Ok, fermo pure lì. Fermo, fermo. E benvenuto. I cordini buttati tutti sopra la testa, va che così te ne liberi. Ho anche per sotto lo stesso. Tutto bene? Stomaco? Adesso ho fatto un po'. Eh? Se me lo dicevi, acceleravo la discesa. No, no, adesso è l'ultimo gire che ho fatto. L'ultime due pendolate. Allora, ti libero subito così. Questo lo spegniamo. Ho, ho! Ho, ho! Ho! Lo, ho!